Negli otto seggi incriminati si torna al voto. Catanzaro sarà chiamata nuovamente a otto mesi dalle ultime elezioni amministrative a scegliere il proprio sindaco. Due mesi fa, lo scorso 22 novembre, accogliendo il ricorso di Salvatore Scalzo, il Tar della Calabria ha annullato i risultati in otto sezioni. Sarà la terza volta al voto in meno di due anni. A maggio 2011, infatti, aveva vinto il candidato del centrodestra Michele Traversa, che dopo quasi otto mesi decise di tenersi la poltrona da parlamentare e lasciare quella da sindaco. A maggio 2012, dopo qualche mese di commissariamento, le nuove elezioni e la vittoria, ora revocata di Abramo. All'indomani delle motivazioni della sentenza, il sindaco decaduto aveva parlato di errori e non di brogli. Per il comitato di Scalzo, la mancanza di schede autenticate e non utilizzate avrebbe costituito sintomo di grave illegalità delle operazioni elettorali, potendo dar luogo al cosiddetto sistema della scheda ballerina. Nelle otto sezioni incriminate e dislocate in tutta la città, l'ufficio centrale aveva messo a verbale un numero di schede votate e scrutinate superiori al numero dei votanti. Il comune di Catanzaro ha già pagato 14.000 euro di spese, mentre la procura aveva prontamente avviato un'indagine per accertare l'ipotesi di reato di corruzione elettorale. Abramo al ballottaggio aveva registrato il 50,08% dei consensi contro il 42,59% di Scalzo. Ora anche l'imminenza della donata elettorale per il rinnovo del Parlamento, oltre alle valutazioni a seguito del donamento del voto, nei 6.000 votanti delle otto sezioni potrebbe condizionare la scelta degli elettori. In questi ultimi giorni di campagna elettorale lo scontro si è acceso sulla questione rifiuti. La giunta comunale di centro-sinistra ha svenduto la discarica di Alli per 650.000 euro, quale giusto compenso per aver ricevuto i rifiuti delle province rosse di Cosenza e Crotone, ha dichiarato Abramo. L'ex sindaco, hanno replicato dal comitato di Scalzo, si professa risolutore di questioni ed emergenze da lui stesso create, visto che è stato sindaco dal 1997 al 2005.